ecco qui il piccoletto oggi vorrei iniziare diciamo da aggiornare e riparare in qualche modo questo piccolo macbook pro è un mid 2010 questo mac praticamente la batteria vedete questa era gonfia al punto tale che da sotto si era alzato il pad quindi sostituisco la batteria la cassa destra l'altoparlantino destro che sta sotto alla mainboard l'artoparlante sinistro con il subwoofer che sta qui sotto al drive al lettore cdrom harddisk ssd raddoppio delle memorie poi devo rimuovere la mainboard non solo per mettere l'altoparlantino destro che sta sotto ma anche per cambiare la pasta termica sui processori sul processore ok perché questo computer c'ha problemi di sorriscaldamento quindi quasi sicuramente quando sono abbastanza vecchi come questa la pasta tecnica perde l'efficienza e quindi in questo caso la sostituirò con la pasta non farò una pulitura logicamente le superfici e poi sostituisco con questa nuova pasta termica poi sostituisco le viti con i gommini che stanno sotto che sono rovinati e la ventolina la metto nuova perché questa qua insomma è vecchiotto se perde un po' l'asse inizia a non essere più efficiente quindi per evitare il problema adesso di scaldamento cambio pure la ventolina non 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione